io ho chiesto a papà e figlio papà e figlio attenzione a questi due uomini di musica andrea e domenico mantovani eccoli qua di raggiungerci allora allora a proposito di nonni se non sbaglio nella vostra famiglia c'è la figura di un nonno musicista partito tutto da lì partito è tutta colpa sua possiamo dire così è tutta colpa possiamo proprio dirlo e cosa suonava fisarmonica fisarmonica abbiamo saltato la generazione lui batteria canto io fisarmonica fisarmonica siamo di voi siete di modena che meraviglia di modena ghirlandena allora l'orchestra mister domenico nasce se non vada errata nel 1990 92 92 e siete ancor di più di figlia della formazione che avete portato sei elementi diciamo quando eccoli qua guardate un po e insomma vediamoli tutti schierati è una foto di qualche anno fa qualcuno c'è ancora qualcuno c'è ancora quindi sei elementi quindi quando vuoi quale eravamo i sette eravate i sette quando vi spostate si serve un pullman tanta roba e tanti chilometri insomma si diciamo quanti chilometri avete fatto finora tutte le cose ride giustamente tutte le vostre serate sono calcolabili invece i vostri album sono 13 album con anche delle raccolte in mezzo ogni tanto facciamo delle raccolte di brani famosi e quindi insomma l'abbiamo l'abbiamo appena sentito che cos'è la posso definire liscio questa musica sì 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 ecco che cos'è per voi scusate la domanda che può sembrarvi assurda strusa però sul palco siete un tutt'uno con la vostra musica vivendo in un in un ambiente diverso insomma da certe certi ambienti liscio romagnolo liscio romagna emilia romagna è imperverso questo discorso cammina cammina quando voi fate le vostre le vostre serate adesso arriviamo a domenico e sottolineato il claudio villa del liscio va bene siete già accordi accorti quando vedete le persone di tutte le età contente di sentirmi effetto fa sembravi scema come un po ancora un po ci stupiamo di questa cosa perché sai ti seguono spesso tante volte quindi abbiamo pure anche di stancare delle volte perché invece c'è questo proprio bisogno di svagare di non pensare ai problemi che a casa loro staccano quelle due tre ore che vengono lì staccano da tutto penso che poi torni a casa torni nel tuo diciamo sì però torni più carico sì 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 torni più carico questa è una vostra bella responsabilità e poi il ballo è salute il ballo è ginastica il ballo uno non invecchia mai ballare questo è vero poi fa niente se uno non sa ballare benissimo voglio dire da quelle parti parlano tutti bene però però la scuola di ballo quello sì ti butti allora torniamo il claudio villa del liscio come si difende signor domenico ma io ho iniziato proprio con questo discorso qui che facevo molte canzoni claudio villa con le cose adesso mi sono un po un po evoluto non faccio solo canzone di claudio villa no 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 però voglio dire se uno dice il claudio villa claudio villa perché la mia voce era molto proprio predisposta per queste per queste cose aveva una voce tenorile sì sì pochino sì è un pochino pochino faceva tremare i vetri allora domenico inizia intorno alla metà degli anni settanta abbiamo appena sentito dalla per la voce di suo figlio come batterista sì avevamo un gruppettino io faccio il batterista batterista cantante batterista cantante non è fatto il chi dov'è qua è quello con tutti quei capelli testa con tutti quei capelli in testa con la posa da cowboy secondo da sinistra qualcuno in meno ma guardare il capello è il caso di dirlo e non concentriamoci con questo allora nella sua prima orchestra formula antica si cantava di di balboni sì io mi ricordo benissimo vero e sì ma lei era una valletta di mai buongiorno giusto esatto lei ha fatto sette voci con mai buongiorno 7 voce l'ottava voce è stata cantare con voi con noi allora andrea il nonno come si chiamava venerino venerino detto nino perché veneri fatti fatti voi sono nomi un po singolari rovigo forse venerino non si sa invece andrea si chiama andrea a nove anni comincia a studiare il pianoforte si va al conservatorio non me lo dico con quell'aria afflitta sto pensando quegli anni sta pensando a quegli anni meraviglioso e alla fisarmonica che da sole un'orchestra quindi questa è stata proprio un'eredità del nonno e anche perché se vuoi fare questo genere è lo strumento predominante quindi sei obbligato a suonare la fisarmonica in tutte le orchestre non manca l'unica cosa che non manca la fisarmonica è difficile suonare la fisarmonica ma diciamo che c'è da studiare parecchio e devi conoscere anche un po il genere perché il tocco dello strumento va in base anche al genere che fai quindi se vuoi suonare questo genere devi conoscere alcun po il genere c'è ascoltarlo ascoltarlo non è solo suonare deve interpretare qui viene la domanda d'oro perché abbiamo ascoltato finora una nipote che per lavorare con la nonna in cucina prima di fare le fettuccine gli gnocchi sono passati anni no perché la nonna l'ha promossa lavorare con il proprio papà no 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 domenico si fermi lavorare con il proprio contro i pro e che conosci ti conosci quindi non sai che hai delle sorprese diciamo senso che conosci i suoi gusti conosci il suo modo di pensare quindi cerchi di agevolare in tutto il contro è che c'è molta confidenza quindi delle volte si va oltre a dire le cose capito ci si scontra anche per una cosa tra marito e moglie insomma è chiaro come sempre lavorare in famiglia quando lavori in famiglia signor domenico si difenda sempre nel senso cosa io sono stato molto felice di averlo avuto con me ha iniziato molto piccolino perché aveva proprio pochi anni 16 anni avevo bisogno del fisarmonicista e lui già suonava il pianoforte non potevo neanche gli anni non potevi entrare nei locali in certi locali non potevi entrare sembravo che aveva più anni allora è lì che si è fatto crescere la barba non se l'è mai tolta allora andrea che lo vedete così simpatico divertente scherzoso esattamente come il suo papà collabora con gli ologramma chi sono gli ologramma è un gruppo di modena che abbiamo fatto iniziative molto importanti tra cui siamo abbiamo suonato per il papa due anni fa un primo dicembre qui all'udienza del papa e poi abbiamo aperto il concerto di vasco rossi a imola e questo gruppo è composto da ragazzi down autistici down con ovviamente musicisti musicisti ecco lo vedo lo vedo avete aperto il concerto di vasco io ho fatto un altro concerto non colori di vasco ho dato una mano a loro e come è stato aprire concerti è una cosa impressionante non si può pensare quando abbiamo fatto già le prove al pomeriggio era una cosa c'era già un mare poi c'era l'oceano ma dopo la sera prima abbiamo fatto noi poi emma e poi vasco rossi quindi c'era una cosa complimenti erano talmente tanti belle soddisfazioni non li vedevi non li non li vedevi per quanto erano tanti ha avuto ha avuto parole meravigliose papa francesco per gli ologramma si sono esibiti anche davanti al papa nell'aula paolo sestro era il sesto dicembre 2021 primo dicembre primo dicembre 2021 vi vediamo eccovi qua che parole ha detto il papa per voi ha detto che è stata un'emozione bellissima voi quando lui è arrivato vicino a noi abbiamo fatto abbiamo fatto abbiamo suonato libertango in onore argentino quindi è stata una cosa bellissima lui è rimasto veramente l'avete riportato a casa si l'avete riportato a casa allora signori facciamo una cosa io ringrazio domenico ed andrea torneranno poi ancora a trovarci in una prossima puntata e mica li lasciamo andare via così